Nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di prevenzione dei reati proseguono i controlli dei carabinieri di Caltanissetta che nei giorni scorsi supportati dal nucleo elicotteri dei carabinieri di Palermo hanno pattugliato i centri abitati di Caltanissetta, San Cataldo, Serra di Falco, Delia e Sommatino. Nel corso dei servizi sono stati sottoposti ad accertamenti 73 veicoli e 127 persone, elevate 19 sanzioni amministrative relative a infrazioni al codice della strada, sottoposti a fermo amministrativo 5 ciclomotori, ritirate 3 patenti di guida, sequestrate amministrativamente 2 autovetture e segnalate 5 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Numerosi anche gli interventi eseguiti dalle pattuglie dei militari dell'arma, come quello in un parco acquatico della provincia, dove i carabinieri hanno sedato una lite in abitazioni ed esercizi commerciali in cui era stata segnalata musica ad alto volume nelle ore notturne. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche con il supporto dei militari del nucleo ispettorato del lavoro di Caltanissetta e del nucleo antisofisticazioni e sanità di Ragusa.